Parte il 5 gennaio la stagione dei saldi invernali in tutta la Toscana e anche in Lucchesia e Versilia. Come di consueto l'organizzazione dei consumatori ADUC ha preparato una serie di consigli per chi girerà i negozi a caccia della grande occasione. Vediamone alcuni. Non fermarsi al primo negozio che pratica sconti ma visitarne diversi e confrontare i prezzi esposti e la qualità della merce di riferimento. Non lasciarsi ingannare da sconti che superano il 50% del costo iniziale perché nessuno regala niente. Difidare dei capi d'abbigliamento disponibili in tutte le taglie e colori. È molto probabile che non sia merce a saldo ma immessa sul mercato solo per l'occasione e quindi con un finto prezzo scontato. Infine difidare dei negozi che espongono cartelli tipo la merce venduta non si cambia. Esistono regole precise del commercio che impongono il cambio della merce non corrispondente a quanto propagandato o perché difettosa. Il fatto di essere in saldo non significa che queste regole non siano valide. Ricordarsi però che non esiste il diritto di recesso negli acquisti fatti in un esercizio commerciale per cui se si è sbagliata la taglia o si è semplicemente cambiato idea è solo la disponibilità del commerciante che può ovviare al problema ma non c'è un diritto del consumatore.